Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera, invece di fare la guardia contro i ladri, saccheggia la Coop, è stata arrestata una guardia giurata, sentite. In sette mesi si è portato a casa quasi 50.000 euro di generi alimentari, giocattoli e prodotti per l'igiene sottratti dagli scaffali e dai frigoriferi del magazzino del supermercato Coop di Parco Prato, quello che lui, di professione guardia giurata, doveva controllare e difendere da furti e taccheggi. Il vigilante infedele, 30 anni, originario di Taranto, residente a Quarrata, sposato e padre di un figlio, è stato arrestato dai carabinieri sabato scorso, dopo che le telecamere nascoste installate dentro il magazzino hanno ripreso il suo ultimo ride. Agiva sempre di notte il trentenne, faceva incetta e caricava tutto sulla sua macchina, senza però sapere che nel frattempo era seguito dalle telecamere nascoste e collocate per venire a capo degli ammanchi. Secondo una stima, dal luglio del 2018 ha portato via dalla Coop qualcosa come 48.000 euro, tra confezioni di carne, bibite, liquori, dolciumi, merendine, caffè, vini, affettati, ma anche prodotti per l'igiene e giocattoli, compresa una macchinina dei carabinieri. Ha prelevato materiali di pregio, bottiglie di liquore, di vino molto costose, di pornellaia, sassicaia e quindi controllando le giocianze di magazzino, gli addetti si sono accorti dell'ammanco, proprio per il fatto che mancavano oggetti di pregio. Dopo la denuncia da parte della Coop, i carabinieri avevano individuato il ladro nel vigilante. Le immagini mostravano i furti di merce per 1.200 euro messi a segno nella notte dell'8 e del 17 novembre scorsi. Il 29 dicembre lo avevano denunciato, ma lui non sapeva di essere indagato e nel tempo ha continuato nella sua azione. L'ultima, sabato scorso, quando ha preso servizio un paio di ore prima dell'orario stabilito e ha caricato in macchina altri generi alimentari, questa volta per un valore di circa 500 euro e alle 7 di mattina, finito il turno, è stato fermato dai carabinieri sulla strada del ritorno a casa. Con i militari che lo stavano arrestando si è giustificato. Non sappiamo se per ironia o per, diciamo, sdramatizzare, diceva che non riusciva ad arrivare a fine mese. L'uomo ha passato un paio di giorni agli arresti e oggi è stato rimesso in libertà. Il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di domiciliari avanzata dalla procura, disponendo l'obbligo di dimora acquarrata e l'obbligo di firma. Parliamo della sparatoria di sabato sera a Poggio Caiano. Dopo il furto la procura ha disposto ulteriori accertamenti perché sono troppo diverse le versioni dei fatti fornite dai carabinieri e dagli arrestati. Si scinde in due fascicoli distinti l'indagine della procura su quanto avvenuto sabato sera tra via Aglietta e via Poliziano a Poggio a Caiano, quando i carabinieri della locale stazione hanno arrestato una coppia di ladri, 30 e 27 anni, nomadi di Pistoia, dopo aver sparato sette colpi di pistola all'auto guidata dall'uomo che è stato ferito a un piede. L'udienza di convalida, prevista per domani o al più tardi mercoledì, si terrà solo per l'accusa di furto, mentre quella di tentato omicidio sarà stralciata per essere ulteriormente approfondita anche attraverso una perizia balistica. Se da una parte infatti marito e moglie nei due interrogatori di garanzia effettuati separatamente oggi confermano di aver rubato in un'abitazione di via Aglietta, dall'altra forniscono una versione completamente diversa su quanto avvenuto subito dopo quando i due si sono imbattuti nei carabinieri che erano in Borghese. Entrambi, assistiti dall'avvocato Antonio Bertei, hanno raccontato al sostituto Laura Canovai che i carabinieri non si sarebbero qualificati. In più l'uomo ha dichiarato di aver ingranato la marcia indietro non per investire i carabinieri o per liberare la moglie che nel frattempo era stata fermata da uno dei due militari, ma semplicemente per fuggire via. Colpito al piedi da uno dei sette colpi avrebbe perso il controllo del mezzo e di conseguenza sarebbe andato a sbattere con il muso sul muretto all'angolo tra via Aglietta e via Poliziano. Per il momento non risultano provvedimenti nei confronti dei due carabinieri e la Procura opta per l'uso legittimo delle armi e legittima difesa ma considerato quanto la ricostruzione dei due nomadi fornita in momenti in luoghi diversi si discosti da quella fornita dai militari è preferibile un approfondimento. La perizia balistica sarà utile a precisare la posizione e la distanza dei carabinieri dall'auto del ladro e l'altezza degli spari. Al momento è stata accertata la presenza di un foro dal lato passeggero e di uno sull'unetto posteriore. I sette colpi sono stati sparati dall'alto verso il basso. La comunità poggese è sconvolta. Il sindaco di Poggio Caliano Francesco Pugelli ha chiamato il comandante della locale stazione per congratularsi per il doppio arresto e poi ha rilanciato l'appello al Ministero dell'Interno affinché potenzi gli organici delle forze dell'ordine. La presenza stessa di più carabinieri e quindi il pattugliamento del territorio o a volte anche qualcuno indivisa che passeggia per la strada è già un importante modo per garantire la protezione di un territorio. La nostra richiesta è chiara, portare a 10 il numero di carabinieri in comando presso la stazione dei carabinieri di Poggio Caliano. Il servizio era di Eleonora Barbieri. La Polizia Municipale ha sequestrato un intero piano di una palazzina a tavola dove l'inquilina cinese aveva messo in funzione un vero e proprio affittacamere con tanto di annunci su internet diretti ai propri connazionali. La scoperta è stata fatta dagli agenti che stavano effettuando una perquisizione delegata dalla procura di Firenze nei confronti di un cittadino cinese indagato per falso documentale. Oltre all'uomo, nell'immobile gli agenti hanno trovato l'affittuaria e altri 10 cinesi che occupavano il secondo piano della palazzina in cui erano stati ricavati 15 posti letto. Fra gli occupanti alcuni clandestini che sono stati espulsi dalla questura oltre a una donna che è stata immediatamente accompagnata al centro per il rimpatrio di Roma. Un pregiudicato di 32 anni di nazionalità rumena è stato arrestato dai poliziotti che questa notte lo hanno sorpreso mentre stava cercando di rubare macchine da cucire da una ditta di confezioni cinesi in via Ariosto. L'uomo era con due complici che sono riusciti a scappare. I ladri hanno forzato il lucchetto del portone dell'azienda e stavano provando a rubare 12 taglie e cuci che volevano caricare su un'auto parcheggiata poco distante. I poliziotti li hanno sorpresi e sono riusciti a bloccare il 32enne che ha cercato di opporre resistenza. Lo straniero, residente a Pisa, è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato. L'auto usata per tentare il furto è risultata essere stata presa a noleggio ed è stata sequestrata. Un motociclista di 56 anni è finito in ospedale in codice giallo dopo essersi scontrato con due auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di ieri a Poggio a Caiano all'incrocio tra la regionale 66 e Via Europa. Sul posto, oltre a un'ambulanza inviata dal 118, sono intervenuti i carabinieri di Prato. Secondo quanto ricostruito, il motociclista che proveniva da Poggetto sarebbe finito su una macchina che stava svoltando in Via Europa e che a sua volta è stata tamponata da un'altra macchina. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è volato sul lato opposto della ex statale. Lasciamo la cronaca. Galciana ritrova il suo ponticino e tutta la frazione fa festa proprio per questa riapertura. Alessandra Grati. Inaugurata la ristrutturazione del ponte di collegamento fa via sulla Vella e via Valdingole a Galciana, un evento che ha coinvolto tutta la frazione. Chiuso da nove anni perché pericolante, la passarella rappresenta una parte di storia di Galciana. Distrutta durante la ritirata dei tedeschi, è stata ricostruita dagli abitanti prima utilizzando le longarine della ferrovia, poi con un progetto più strutturato, finanziato dal comune e dal comitato di Galciana, nato proprio per realizzare il collegamento. Ha fatto costruire il mio babbo e per me è una grande soddisfazione. Rivedendo nascere, veramente, grazie, grazie a tutti e speriamo di poterci camminare ancora per un po' di tempo. Andare a piedi, a camminare, so che ha fatto il giro di là, invece qui è più comodo. Dove ci si veniva da ragazzi perché c'erano tutti i campi, ci si veniva a divertirsi, poi c'era il campo sportivo di Prete. Ha cambiato funzione, prima era una via di passaggio, ora è una via di svago che dall'accesso si ha l'un verso l'un l'altro perché è molto utilizzato. Le cronometri si fanno lo stesso, però per passare è comodo, comodissimo. Negli anni scorsi è stata promossa una raccolta di firme perché il ponte non venisse abbattuto e con costanza i residenti hanno ricordato all'amministrazione quanto questo collegamento fosse importante. Ci hanno fatto capire con garbo e determinatezza che serviva, serviva per connettere le due sponde, era utilizzato soprattutto da persone magari più anziane che andavano dal e verso il centro storico di Galciana, diciamo così, e niente, allora a questo punto abbiamo capito che effettivamente era importante. Un intervento che è stato realizzato con un impegno di 25 mila euro. All'Istituto Copernico domani, Lagorà, quattro giorni di incontri, di testimonianze. Sentite ancora Alessandra Grati. Tutto pronto per Lagorà, liceo Copernico. Quattro giorni di incontri, a partire da domani, organizzati dal Comitato Studentesco che quest'anno, per la prima volta, prevede la prenotazione online. È un progetto studentesco molto particolare che consiste nel sostituire le giornate di lezione tradizionali con delle giornate a stile conferenze. I ragazzi partecipano a interventi che sono simili a delle conferenze con ospiti e relatori importanti da tutta Prato che vengono per lasciare ai ragazzi testimonianze ed esperienze. È un progetto studentesco molto interessante che solo noi facciamo qua a Prato e siamo veramente orgogliosi ogni anno di portarlo a termine e presentarlo ai ragazzi. Un fitto programma di incontri che vedono al centro anche l'orientamento per la scelta dell'università e seminari sul benessere a scuola. Abbiamo l'onore di avere anche un forum che si dedicano molto allo sport. Infatti abbiamo un tecnico dell'Empoli che viene a farci un forum con una giocatrice della Serie A. Poi abbiamo molti primari che vengono qui a parlare di come si interfacciano nel mondo dell'ospedale comunque. Poi abbiamo un dottore che viene a parlare delle seconde generazioni dei giovani dei figli degli immigrati che vengono qui e comunque si devono sentire italiani come tutti gli altri. Poi abbiamo molti forum sul cinema che comunque è un tema attuale poi musica ballo. Non ci sono altre notizie io mi fermo qui grazie per averci seguito arrivederci.